Gli gentili telespettatori, un cordiale saluto da Marco D'Agostino e ben ritrovati su Visione TV. Vi presento con grande piacere l'ospite di oggi, è tornato a trovarci Fulvio Grimaldi. Ciao Fulvio! Buongiorno a te e buongiorno a Visione TV e a tutti gli spettatori. Fulvio tu hai scritto un articolo sul nostro ultimo mensile dal titolo Male non fare, paura non avere. C'è paura dove non c'è l'idea, dove c'è l'idea non c'è paura. Ecco in questo articolo tu hai analizzato soprattutto la tua esperienza di inviato di guerra e sottolineato come facendo appunto degli esempi le popolazioni dell'Irlanda del Nord e della Palestina nonostante fossero costantemente represse, bombardate, ecco, non provassero questo sentimento, cioè il sentimento della paura, appunto perché spinti anche da delle idee molto importanti, quasi a star significare come sia l'assenza della conoscenza a generare paura. Ecco, secondo te oggi noi siamo un popolo, noi occidentali, insomma, un popolo che non ha conoscenza, per questo siamo un popolo impaurito? No, loro sicuramente, hai detto bene, abbiamo una mancanza totale di quello che ci succede, non siamo consapevoli di quello che ci viene inflitto, che ci viene fatto, da chi ci viene fatto, perché ci viene fatto, se non a una minoranza infima di persone che a forza di ricerca di un retroterra culturale, a forza di non farsi abbindolare a priori da quella che è l'opinione corrente, a parte questa minoranza, la grande maggioranza delle persone è presa dalla paura per mancanza, come tu hai detto, di conoscenza. Non sapendo che cosa sta succedendo, avendo di fronte un mondo che gli viene dipinto in termini diversi da quelli che in effetti sente che sia, cioè non corrisponde a quello che lui crede, pensa, vuole, sogna, ha sperimentato, un mondo che viene costruito gli intorno e non lo capisce perché non è il suo, non è quello vero, di conseguenza non ha strumenti per reagire, per collocarsi in un mondo reale, vero, quello che gli viene sottratto. Perché io ho parlato delle mie esperienze, io faccio sempre un po' un riferimento alle mie esperienze perché non sono un grande saggista, non sono un filosofo, non sono un grande intellettuale, sono un cronista di strada, registro quello che vedo, cerco di capire quello che vedo, cerco di capire cosa c'è dietro e cosa ne può venire. E allora da questa mia esperienza ho tratto delle conclusioni, proprio quelle che tu hai citato, in particolare nell'Irlanda del Nord, in particolare in Palestina, ma anche altrove, in America Latina, in Eritrea, ovunque ci siano state paure e risposta alle paure, paure fabbricate da qualcuno che minaccia, qualcuno che incombe, qualcuno che fa del male, che può essere i bombardamenti, l'aggressione, la fame, la dittatura, tante operazioni che noi di cui siamo testimoni da sempre, in particolare adesso, che costringono le persone, le masse, i popoli a soggiacere, a subire. Allora, siccome in questi paesi che io ho seguito nelle loro evoluzioni, nelle loro lotte, l'Irlanda del Nord contro l'occupazione britannica in tutti i 30 anni del secolo scorso, dagli anni 60 agli anni 90, la storia della Palestina che purtroppo è tragicamente infinita, nasce dalla spartizione decisa dall'ONU nel 48, quando sono arrivati gli immigrati da tutta Europa e da altre parti ebrei e hanno spodestato il popolo originario, autoctono, i palestinesi, politici, oppure anche altre situazioni dove si sono avute lotte di liberazione dal colonialismo. Io lì non ho trovato la paura, della paura che invece noi subiamo, di cui parlerò fra un attimo. Perché non c'era la paura? Perché sotto le angherie che in Irlanda del Nord la popolazione repubblicana, cattolica, quella che ambiva la riunificazione dell'Irlanda, di tutta l'isola negata dai britannici da oltre un secolo? Perché questa popolazione immiserita, impoverita, disarmata per un lungo periodo prima che si organizzasse in una resistenza armata? Perché questa popolazione così priva di risorse, di forza, non aveva paura di fronte all'occupazione britannica che era brutale, che era aggressiva, ma anche quella della componente protestante filo britannica della popolazione irlandese, i cosiddetti unionisti che si avventavano, angheriavano, vessavano, erano prepotenti nei confronti della proporzione cattolico-repubblicana. Perché non avevano paura? Perché i bambini alla mattina mi raggiungevano a casa mia? Io abitavo mezzo a loro, di solito mi facevo ospitare da delle famiglie, dai quartieri in rivolta, in resistenza, perché venivano, mi incoraggiavano, mi portavano loro, che non avevano nulla di nulla, poverini, delle caramelle, dei biscotti, per darmi un segno di simpatia, di amicizia, è perché mi portavano poi in giro a vedere le cose, a vedere dove c'erano gli scontri, dove i ragazzi lanciavano sassi contro i soldati britannici o la polizia nord-irlandese, perché mi portavano a vedere una sepoltura, un funerale di un qualche loro amico, grande, adulto, giovane, combattente contro l'occupazione britannica, che era stato ucciso e celebravano il suo funerale. Perché mi portavano? Ed erano sempre pieni di euforia, di coraggio, di ottimismo, di buon umore e di gentilezza, perché sapevano che cosa stavano facendo e perché lo facevano? Avevano capito il nemico, il nemico era un oppressore, uno che gli toglieva la dignità, gli toglieva le scuole, l'ospedale, le case, i loro diritti, l'avevano capito, l'avevano capito dai loro genitori, dai loro fratelli maggiori, che erano impegnati anche loro nella lotta, quindi avevano una prospettiva di liberazione e su quella si impegnavano e quella gli dava coraggio, gli dava ottimismo, gli dava una prospettiva di vittoria, quindi di vita giusta e bella e questo li incoraggiava e gli toglieva la paura. Certo, quando scoppiava una bomba in un pub e ne morivano tante persone, oppure arrivano i soldati britannici e facevano irruzione nella tua casa e ti portavano via il papà oppure il fratello maggiore, certo era spavento, erano momenti drammatici, ma non era paura, la paura era vinta dalla capacità di aver capito che cosa stava succedendo e dalla necessità, tu bambino, tu ragazzo, tu donna, tu essere umano, la necessità di reagire, di difenderti, hai vivi un progetto, un obiettivo, così uguale in Palestina, da molti più anni, anche lì io non ho mai trovato quello che di solito i sociologi, i pediatri, gli psicologi, i psichiatri lamentano, oh queste storie tremende, tragiche di popolazioni, soprattutto di bambini colpiti da traumi, dalle situazioni di guerra, di oppressione che hanno subito, di miseria, eccetera, ci saranno anche quelle, ma non dove c'è la coscienza, conoscenza, coscienza di cosa sta succedendo. Vedete, in Palestina sono 75 anni che un popolo è stato espropriato e sono 75 anni, io ci vado spesso da quelle parti lì, ho fatto dei documentari, tanti documentari, ho scritto tanti articoli, ho visto tante cose, ho visto milioni di ragazzi dai 6 a 7 anni fino a quando non fossero adulti, tirare sassi contro i carri armati britannici, contro i blindati britannici che erano dotati di cannoni, di fucili, quantomeno di gas lacrimogeni veramente tossici, io li ho subiti e ne sono rimasto veramente danneggiato in termini di bronchite cronica, eccetera, quindi gas tossici, li adoperano, ma questi ragazzini tiravano sassi, certo i sassi non facevano nulla ai blindati israeliani o ai carri armati, non li danneggiavano ed erano poche le vittime israeliane dell'esercito e della polizia rispetto alle tantissime vittime palestinesi, ma ciononostante questi ragazzi erano gioiosi, erano positivi, quando moriva qualcuno erano tristi, ma questo non incideva solo la loro capacità di essere vivi e positivi, di non avere paura, se avessero dovuto paura in questi 75 anni avrebbero smesso di tirare sassi, solo sassi che è quello che gli è rimasto da fare, di fronte all'isolamento, all'abbandono di tutto il mondo, che accetta a ogni impunità di un paese veramente inaccettabile dal punto di vista del trattamento della popolazione che vive sul suo territorio e che non coincida con quella etnicamente pulita che è la loro. in Italia, da noi, in Europa, in Occidente, tu ne hai parlato prima, la paura dilaga, abbiamo avuto tantissima paura quando c'è stata la circolazione del famoso virus, e che è questo virus? Che ne sappiamo del virus? Ci hanno detto quelli importanti, i virustari, gli scienziati, certi scienziati, non tutti, ricordiamocelo, ma quelli che volevano il dogma e che ci definivano quelli che non accettavano il dogma negazionisti. Ecco, questi qua ci facevano paura, hanno fatto paura alla gente, hanno fatto tanta paura alla gente che la gente si è fatta togliere i diritti fondamentali, quelli dello stare a casa sua e padroni a casa sua e uscirne quando gli pareva opportuno o necessario per andare in giro, per muoversi, per incontrare, per fare, addirittura per lavorare, non si poteva più, e la paura ti attanagliava e ti faceva accettare queste incredibili privazioni dei tuoi diritti fondamentali, come sanciti dalla tua carta magna, dalla tua Costituzione. L'hai accettato perché avevi paura. Poi è arrivata un'altra cosa che ti ha fatta tanta paura, che è quella del clima. Oddio, il clima ci sta rovinando. Noi stiamo, noi colpevolissimi esseri umani, così ci dicevano, e già questo ci paralizzava. Noi colpevoli avevamo, noi rovinato la terra, il pianeta, la natura, la vita di tutti quelli nostri intorno a noi e degli altri. Paura. E perché? Perché non capivamo, perché ci dicevano delle cose che ci rendevano disarmati. Non sapevamo cosa ci stava succedendo. Ci dicevano che era un virus e che al virus bisognava rispondere con un, dicevano loro, lo chiamavano così, con un vaccino. E noi che argomenti avevamo? ci sentivamo delle voci dissidenti, però insomma tanta era il martellamento, il cannoneggiamento, il bombardamento di questa cosa così minacciosa che non aveva che esiti mortali. La tua morte se non davi retta. Ma anche se davi retta rischiavi la morte tua, dei tuoi, degli altri. paura. Non avevi capito cosa c'era dietro. Non avevi la conoscenza e senza la conoscenza non avevi la coscienza. Non l'avevi quella degli irlandesi, dei palestinesi, degli eritrei, dei cubani, dei venezuelani, non ce l'avevi, che avevano capito cosa gli stavano facendo, chi glielo stava facendo e per quale motivo. Noi non abbiamo capito che l'operazione, per esempio, pandemia era un'operazione per vedere fino a che punto si poteva ridurre in schiavitù, in obbedienza a una società, privarla dei suoi diritti, ma anche impoverirla, a vantaggio della ricchezza di pochissimi che manovravano questa operazione. Tant'è vero che come tu sai bene Marco, molti dei nostri spettatori che sono vispi e avveduti sanno quanti miliardi hanno fatto gli operatori di Big Pharma? Quanti miliardi stanno facendo quelli che producono le armi? Ora che abbiamo scatenato uno tsunami di armi sull'Ucraina, che ci hanno detto che bisognava armare l'Ucraina, e noi impauriti da una guerra che magari domani coinvolgeva anche noi, abbiamo sganciato miliardi in forma di armi togliendoli agli ospedali, alle scuole, alle strade, al territorio malandato, per darli all'Ucraina perché se lì c'era la guerra e se non lo facevamo la guerra avrebbe travolto anche noi. Paura, ecco la paura, è la mancanza di conoscenza e coscienza, che ci avrebbe detto che qua ci stanno ciurlando nel manico, che qua c'è una grande potenza occidentale alla quale noi siamo da tanti decenni purtroppo legati dalla fine della guerra, ci siamo messi d'accordo, ci hanno fatto mettere d'accordo i nostri governanti già allora e da allora è rimasto così, che siamo al guinzaglio di questa grande potenza che come campa? Campa vendendo armi, è la sua maggiore industria e anche i suoi vassalli fanno molti soldi vendendo armi, ma per vendere armi bisogna avere una guerra, siano le guerre tante guerre, le abbiamo viste, Libia, Siria, Afghanistan, Iraq, Serbia, Ucraina. Tutte, guarda caso Fulvio, tutte provocate da un unico stato, un'unica nazione, non bisogna ricordare chi. Comunque io sentivo te parlare di appunto la difficoltà da parte dei popoli occidentali a riconoscere i propri nemici, perché ce ne propinano uno diverso a seconda del periodo storico. Tu ti ricorderai benissimo, circa una cinquantina di anni fa, il principale nemico dell'Occidente era il popolo cubano e il suo presidente Fidel Castro. 20 anni fa invece erano in molti a pensare che se fosse morto Saddam Hussein avremmo avuto la pace nel mondo, solo che poi in Iraq non sono state trovate armi di distruzione di massa. adesso sono molti quelli che pensano che un'eventuale scomparsa del popolo russo e della Russia e del suo presidente Vladimir Putin porteranno una nuova Belle Epoque. Secondo te il popolo italiano è ancora, cioè sorbisce ancora questa propaganda, cioè la russofobia oggi è una paura molto diffusa all'interno della popolazione italiana, oppure qualcosa si sta muovendo, insomma il popolo italiano ha cominciato ad aprire gli occhi. Tu come la vedi? Marco la tua, sì è un dubbio, è una questione aperta ed è una questione per fortuna in movimento, direi in evoluzione. Hai detto giustamente tu hai parlato, hai tirato fuori un'altra paura, che è quella dei russi che hanno cercato in tutte le maniere di inculcarci, che poi anche è abbastanza atavica, perché i russi o l'Oriente ce l'hanno sempre raffigurato in occidente come una minaccia. Per la verità siamo stati noi sistematicamente e ripetutamente ad aggredire l'Occidente e l'Oriente. Lo è stato Napoleone, lo è stato Hitler, lo siamo stati anche noi italiani in Russia, eccetera. Siamo stati noi di solito a cercare di rubare territori, di sorse, eccetera, in Oriente o Medio Oriente o Africa, insomma, fuori dal nostro spazio di europei o di anglosassoni, di euroatlantici adesso privilegiati. E allora la paura? Perché noi potessimo fare le guerre, accettare le guerre e il costo delle guerre. E sappiamo che il costo delle guerre, come ho detto prima, significa meno ospedali, meno scuole, meno istruzione, meno salvaguardia del territorio, perché dovevano spendere per cannoni e perché ci dovevano difendere, perché dovevano avere paura. Ecco qua, la russofobia è una cosa che risale a secoli fa. Poi ha trovato il suo grande argomento col comunismo. Il comunismo è quello che mangiava i bambini, quello che avrebbe fatto abbeverare i cavalli dei cosacchi alle fontane di San Pietro e distruggere la cristianità, eccetera. Tutto questo che nessuno aveva mai in Russia e neanche nella Russia Unione Sovietica mai pensato, mai concepito. E non hanno fatto guerre di aggressione, però noi ce l'hanno fatto credere come minaccia. E questa è stata una grande paura che tu giustamente hai rievocato insieme a quella della pandemia, insieme a quella del clima, insieme a quella delle migrazioni, eccetera, eccetera. O della guerra tra uomini e donne, anche quella è stata una bella paura che circola tutt'ora, insomma, e che viene strumentalizzata. Io credo che la domanda che ti hai posto è una domanda tendenziosa, dove è già compresa la risposta, perché tu pensi, e io credo che tu pensi a ragione, che qualcosa si sta muovendo, che non è più così facile, intanto per generare in genere paure, perché a forza di capire che ci stanno facendo paura, e che noi ne paghiamo il prezzo, in termini di impoverimento, in termini di perdita di diritti e di democrazia, di libertà, incominciamo a credere, a pensare, ma insomma è giustificata questa paura. E questo è un sentimento, un dubbio, il famoso dubbio socratico, con il quale si dovrebbe affrontare qualsiasi affermazione che ci viene fatta, soprattutto dall'alto, il dubbio socratico, quello di Galileo anche, il metodo di Galileo, verificare. E molta più gente ha incominciato a forza, è diventato contributente martellarci con le paure. La gente ha detto, ma adesso basta, perché? Abbiamo visto che non c'è successo niente. L'Unione Sovietica non ci ha mangiati vivi. Noi non siamo stati attaccati da Saddam, e neanche da Gheddafi, e neanche da Assad, e neanche dai Taliban. Siamo stati noi ad attaccarli, rimettendoci anche dal punto di vista economico e anche democratico. E allora, come tu sospetti, e io credo di poter affermare che è così, si sta veramente rafforzando nel nostro paese, ma in genere nei paesi soggetti a questi creatori di paure, la consapevolezza che ce l'hanno fatta una di troppo, che bisogna mettersi in guardia, che è il caso forse di mettere in dubbio e di acquisire la conoscenza del perché questi lo fanno. E a quanto abbiamo capito perché lo fanno? A che scopo lo fanno? Allora arriviamo al livello di coscienza e di capacità di rispondere degli irlandesi, dei palestinesi, degli eritrei, dei popoli in lotta di liberazione. E diventiamo anche… allora perdiamo la paura, perché ci è arrivata l'idea. Come ho detto, io ho cercato forse un po' criptico il titolo del mio pezzo sulla bellissima rivista Visione, di cui tu sei membro, nel senso che lavori in questo contesto e sono contento per te, e alla quale io ho l'onore di contribuire. Questa rivista è uno strumento che esprime proprio quello che tu hai detto, la mancanza di sottomissione che sta dilagando, la sottomissione al discorso, alla narrazione che ci stanno facendo, che ci vogliono far crescere, credere e che sempre di meno crediamo, anche in virtù del fatto che esiste Visione TV. Ecco, Fulvio, tu prima citavi anche una paura che magari qualche anno fa era molto diffusa all'interno soprattutto del popolo italiano, cioè la paura delle migrazioni. Tu hai dedicato un paragrafetto anche a questo, che si intitola Terrorismi migranti. Ecco, puoi ricordare il contenuto di quel paragrafo? Soprattutto a me ha colpito una frase che tu hai scritto, cioè che non è il migrante il nemico. Ecco, ma io ti chiedo, se non è lui, chi è secondo te? Beh, io credo che il migrante abbia lui il suo nemico, che poi diventa anche il nostro. A noi ci viene presentato la minaccia di una migrazione che dovrebbe sommergerci, toglierci la nostra identità, sconvolgere le nostre abitudini, i nostri costumi, le nostre tradizioni e quindi il nostro comune cammino di comunità. Ecco, questa è la paura, ma al tempo stesso ci dicono anche che tocca accettarla, questa situazione. Allora, per non avere la paura dei migranti, che non è un caso per niente di averla, perché sono esseri umani e di solito vengono in debolezza, vengono privati di forza, di consapevolezza, e di conseguenza sicuramente averne paura è sbagliato. Aver paura di quelli che li fanno andare, di quelli bisogna non tanto aver paura, ma coscienza, avere la capacità come gli irlandesi, come i palestinesi, di capire chi sono, cosa fanno e rispondere. Perché chi fa partire queste masse? Oggi abbiamo appena registrato 100.000 arrivi entro agosto quest'anno in Italia, cioè un record addirittura rispetto all'annata più importante. Fulvio, scusa se ti interrompo, ma secondo te perché se ne parla poco di questi arrivi? Io mi ricordo magari nei governi precedenti c'era sempre questa emergenza migranti, adesso non è più la priorità, ci sono altre emergenze da lanciare secondo te? Adesso non so se ci arriveranno altre emergenze, se quelli hanno un'immaginazione molto ricca e quindi le emergenze ne troveranno sempre di nuove per in qualche maniera rimetterci le manette o il guinzaglio. No, ma se ne parla… Noi avevamo prima una opposizione che oggi è al governo, partiti di opposizione che tuonavano contro la migrazione e giuravano che l'avrebbero fermata, che avrebbero evitato che queste masse partissero dai loro territori, che è già una tragedia, la vera tragedia, di non poter restare a casa, di essere indotti a andarsene e andare altrove, è una perdita comunque, ed è indotta. Aver paura di queste masse che arrivano e ci inondano. avevano detto, ricordiamoci, Lameloni, Salvini, li avrebbero bloccati, addirittura con un blocco navale davanti alle coste dell'Africa. Ma che? Hanno fatto il contrario, hanno subito, praticamente senza saper reagire in nessun modo, quello di cui prima avevano detto che ci sarebbero opposti, avrebbero bloccato tutto. Oggi sono quelli che ci fanno arrivare e tolgono dalle loro terre d'origine, dove dovrebbero restare a difenderle, a svilupparle, fanno arrivare quanti ne sono mai arrivati prima. Perché questo? Ma perché questo governo, questo personale politico, non ha niente di quello che diceva di avere e di essere. E' soltanto uno strumento di potere che sa di poter stare al potere nella misura in cui si inserisce nella strategia dei grandi poteri mondi planetari, la famosa cupola, coloro che organizzano le grandi paure, che sono concentrati in Occidente, eminentemente negli Stati Uniti, di cui Portavoce e Davos, il Forum Economico Mondiale di Klaus Schwabe e altre organizzazioni simili, Fondo Monetario, Trilaterale, che sono i grandi manovratori che hanno in mano il timone per queste operazioni. Adesso loro sono al potere e sanno che possono restare al potere nella misura in cui obbediscono e continuano ad accettare la strategia che è quella che vuole che dall'Africa, dal sud del mondo, si spostino masse enormi, si scarichino sull'Europa, creino grandi difficoltà sociali e culturali in Europa, in Italia in particolare, ma abbandonino le loro terre, in modo che quelle terre poi siano, che sono ricchissime, le più ricche del mondo, di risorse, minerali, eccetera, possono essere sfruttate dalle loro multinazionali. Ecco perché sgomberare l'Africa, farli arrivare qua, creare enormi difficoltà a loro e a noi, però lasciare libero il campo per lo sfruttamento neocoloniale di questi qua. Il gioco è tutto quello e anche quello credo che incominciamo a capirlo. Continuiamo a cercare di spiegarlo. Il nostro lavoro di giornalisti, il tuo lavoro, il mio lavoro, eccetera, è proprio quello di cercare di far circolare una verità alternativa, un po' più rispondente al reale, di quelle che ci dipingono sui teli che ci fanno calare davanti. Bene, Fulvio, tu hai accennato in precedenza già a qualcosa, ecco, sulla rivista Visione. Ecco, io credo che ormai siamo arrivati alla fine di questa nostra intervista. e ti chiedo solamente una piccola cortesia, un piccolo messaggio promozionale. Ecco, cosa rappresenta per te collaborare, cosa vuol dire per te collaborare ad una rivista come la nostra e soprattutto perché i nostri telespettatori, insomma, chi ci segue dovrebbe acquistarla? Io incontro per strada molte persone che gentilmente mi salutano, mi riconoscono, molti che sono i più anziani mi riconoscono dai tempi in cui lavoravo al TG3, in Rai, ma sono una minoranza ormai perché sono passati quasi 25 anni, quasi un quarto di secolo. Quelli che adesso mi salutano e mi dicono con gentilezza e anche con affetto e con stima mi salutano, mi dicono anche ma qualche volta è bravo. Io non sono bravo, io ho la possibilità di, ho imparato a dire le cose come le vedo, come stanno e come evidentemente come le vedono tantissime altre persone. Bene, questo è dovuto al fatto che io mi faccio, mi posso esprimere oggi su un canale come Visione TV, su una rivista come Visione Un Altro Sguardo Sul Mondo. Ho anche altre emittenti minori sulle quali posso dire le cose in cui credo, ma questi due strumenti sono decisivi, sono importanti, veramente sono delle avanguardie di cultura e di libertà e io sono contento che hanno questa risposta, che andando in piazza, andando per le strade eccetera, c'è gente che dice, ah Visione TV, ah tu sei, come ti chiami, Fulvio, sì sì, bravi voi. Ecco, allora abbiamo raggiunto il nostro scopo e lo raggiungeremo sempre meglio, caro Marco. Complimenti a te che ci lavori. Ecco, io ti ringrazio Fulvio per essere stato con noi, e ti ringrazio anche dei complimenti, però insomma io credo che dette da te siano quasi un battesimo. Ecco, detto ciò, io ti ringrazio per essere stato con noi, per aver accettato il nostro invito, insomma abbiamo discusso di una tematica molto importante come quella della paura che è contenuta nel nostro ultimo volume, abbiamo discusso in particolare del tuo articolo, della tua esperienza, anche come inviato di guerra, insomma tutte le paure che cercano in tutti i modi di farci avere, ecco, di farci provare, insomma tutti coloro che gestiscono il potere politico e mediatico. Fulvio, io ti ringrazio ancora e sai che tu qui sei di casa, puoi insomma venire quando vuoi. Grazie Marco, buon lavoro a te, grazie a te. Hai la fortuna di essere giovane e che vedrai sicuramente un mondo migliore come quello che descriviamo e auspichiamo noi in Visione. Ciao. Si spera. Ecco, detto ciò l'intervista si è conclusa, gentili telespettatori, io vi ricordo quello che sapete già, cioè che Visione TV vive soltanto grazie alle vostre donazioni, potete farlo tramite bonifico, tramite Paypal, attraverso i numeri che la regia ha mandato in sovrimpressione, oppure tramite un abbonamento sul nostro sito www.visionetv.it noi vi ringraziamo per averci seguito e alla prossima. Grazie a tutti.